Sì, anche quest'anno come tutti gli anni continuiamo a fare allenamento all'aperto nel periodo estivo anche per dare un po' di fondamentale a questi giovani che meritano, che ci seguino con tanto affetto e tanto entusiasmo. Nella passata stagione anche il campo polivale di Santo Maso è stato sfruttato da lei e da Nutella a Buglione, anche quest'anno si ripeterà? Spero di sì, in verità siamo ora facendo allenamento qui al Campoconi perché il tempo con l'ombra come si può vedere permette di più di allenarci. A Santo Maso prevediamo forse a luglio di farlo nel tardo pomeriggio quando anche l'ombra coprerà il campo. Axi Basket sempre presente nel territorio avellinese, una grande tradizione di basket. Sì, è vero, dai tempi del buon Larry con Donatella abbiamo sempre seguito i giovani e continueremo a farlo col massimo impegno e piacere soprattutto. Come sono andati quest'anno i campionati? I campionati sono andati discretamente bene, l'Under 13 ha avuto un buon campionato, ha vinto la prima fase interregionale, nella seconda fase siamo arrivati quarti, però i ragazzi stanno lavorando, migliorando, siamo soddisfatti. Il gruppo mini basket, le sordieni l'hanno vinto, si lavora bene e stiamo continuando ad avere buoni risultati. Grazie a tutti! Grazie a tutti!